Siamo allora questo modulo didattico e chiudiamo anche tutti e tre i moduli didattici che abbiamo dedicato all'interno di questo corso di intelligenza artificiale alla programmazione logica, all'introduzione alla programmazione logica, alla teoria della programmazione logica, parlando dei cosiddetti programmi normali. Di cosa si tratta? Sono programmi definiti, dove però, non si chiama più programmi definiti ma si chiama programmi normali, perché nel corpo delle clausole compare il simbolo di negazione. Il simbolo di negazione non dovrebbe stare lì, abbiamo detto che le clausole di Orn sono clausole che hanno un solo letterale non negato e ce l'hanno appunto nella testa. Se avessimo nel corpo della clausola un letterale negato, beh, questo in realtà dovrebbe stare nella testa della clausola e quindi essere un secondo, oppure un terzo, un quarto letterale nella testa. Per lasciare un solo letterale nella testa, eventuali letterali non negati si mettono nel corpo della clausola con la negazione, con una negazione. Trovate proprio nei programmi Prolog un predicato metallo che si chiama NOT. Questi programmi che hanno il NOT nel corpo della clausola vengono definiti programmi normali. Dovremmo cercare un attimino di capire la semantica dichiarativa di questi programmi, come è possibile questo trucchetto, da che cosa si genera la necessità di avere il NOT nel corpo della clausola e che problemi si produrranno in termini di correttezza e di completezza. Allora, questi programmi che hanno il NOT nel corpo delle clausole vengono definiti programmi normali. Vediamo da dove nasce tutta questa problematica. Se noi abbiamo un programma Prolog, un insieme di fatti, per esempio, come questi qui, Joe è uno studente, Bill è uno studente, Jim è uno studente, Mary è un insegnante. Questo qui è un programma Prolog, è un programma definito, che sono tutte e quattro cause del programma a metà. E vogliamo tirar fuori, come al solito, delle conseguenze logiche da questo programma. Qui non abbiamo regole, per cui sarà tutto abbastanza banale. Ci chiediamo, per esempio, se Mary è uno studente. Vogliamo sapere se l'atomo ground student Mary, appartenente alla base di Airbrand, fa parte del modello minimo di Airbrand. Student Mary fa parte della base di Airbrand, ma non fa parte del modello minimo di Airbrand, in quanto che non è, ovviamente, una conseguenza logica di questo programma. Student Mary non è una conseguenza logica di questo programma, perché non tutti i modelli che sono modelli di questo programma, ma sono modelli anche di Student Mary. C'è un modello in particolare, quello che costituta esattamente da quei quattro atomi ground che stiamo vedendo, Student Joe, Student Bill, Student Jim e Teacher Mary, che non contiene questo modello, l'atomo Student Mary, quindi Student Mary non è conseguenza logica. Però, notiamo che non solo Student Mary non è conseguenza logica, ma non è conseguenza logica neanche Not Student Mary. Cioè, notiamo che in generale, se un atomo ground della base di Airbrand non è conseguenza logica di un programma, non è che automaticamente la sua negazione lo sia. Semplicemente, né lui né la sua negazione possono essere conseguenza logica del programma. Possono essere, nessuno dei due, conseguenza logica. Eppure, qual è il punto? Il punto è questo, che a ricordi logica, dalle affermazioni fatte, non deriva né che Mary è uno studente, né che Mary non è uno studente, come conseguenza logica. Ma nel ragionamento di senso comune, ci piacerebbe poter derivare da quel programma che stiamo vedendo qui a sinistra, anche l'informazione che Mary non è uno studente, o perché non è elencata fra gli studenti, esplicitamente, o perché la troviamo elencata fra i professori. Questo ci porterebbe a credere che Mary non è uno studente. Beh, questo ragionamento che facciamo, in tanti casi può essere corretto, come ragionamento di senso comune, ma non è un ragionamento logico, cioè non è necessariamente corretto. Mary potrebbe essere studente, scusa, professore, insegnante in questo corso, ma lei potrebbe essere, ad esempio, un dottorando, e potrebbe essere, quindi, discente in altri corsi, uno studente in altri corsi. Quindi non è necessariamente vero che Mary non sia uno studente solo per il fatto che è teacher. E non è necessariamente vero che Mary non sia uno studente solo per il fatto che non è elencata fra gli studenti. Dunque, però noi vorremmo, in certi casi, poter derivare not student Mary, perché in tanti casi potrebbe essere comodo. Potrebbe essere comodo quando noi diciamo tutto ciò che noi sappiamo del mondo è solo quello esplicitamente elencato nei fatti, tutto il resto non lo sappiamo, no, tutto il resto è falso, chiedo scusa, e allora sarà falso anche che Mary non è studente. Questa ipotesi, cioè di dire tutto quello che noi sappiamo è quello che è esplicitamente elencato nel database, viene introdotta da Raymond Wright nel 1978, viene definita Closed World Assumption, assunzione di mondo chiuso, cioè assuniamo che il mondo sia chiuso alle sole affermazioni che sono presenti come assiomi propri della nostra teoria. Se un atom on ground A non è conseguenza logica di un programma P, allora adesso si inferisce come fosse una conseguenza logica nota A. viene chiamata assunzione di mondo chiuso ma più che un'assunzione appunto questa è una regola di inferenza di fatto, una regola di inferenza aggiuntiva che non fa parte della logica del primo ordine ma che è stata aggiunta per cercare di far evolvere un po' la logica del primo ordine e farla sembrare più simile all'aggiornamento cosiddetto di senso comune. Quindi, in pratica la regola di mondo chiuso dice questo, se A, un atom on ground, una base di erba, non è conseguenza logica del programma definito, allora la deriviamo nota A la deriviamo da P come la deriviamo e quindi supponendo che assumiamo che sia una conseguenza logica supponendo che questo sistema di derivazione che include la crossword assumption sia corretto. Chiaramente stiamo stravolgendo la logica con questa assunzione di mondo chiuso. Però, per certi versi, in certi casi, può essere utile. L'assunzione di mondo chiuso, Raymond Ryder, lo rivedremo quando parleremo della diagnosi, 1978. La crossword assumption, quindi questa regola che abbiamo appena annunciato, non è una regola logica, non appartiene dalla logica e infatti a differenza della logica del primo ordine che abbiamo detto in passato essere una logica non monotona, la crossword assumption è un regola in differenza non monotona e infatti questa è la cosa che la rende più vicina al ragionamento di senso comune. Che cosa significa monotonicità? Monotonicità, come ho detto in passato, significa che se noi abbiamo un certo insieme di assiomi e da questi insiemi propri di una teoria deriviamo un certo numero di conseguenze logiche, se noi aumentiamo il numero degli assiomi lo accresciamo aggiungiamo altri assiomi intendo dire tutto ciò che derivavamo prima continua a essere derivabile ma semplicemente verranno derivate ulteriori informazioni questo vuol dire monotonicità della logica del primo ordine ma se noi la logica del primo ordine la estendiamo con la closed word assumption quindi la stravolgiamo quello che noi otteniamo è complessivamente una logica non monotona infatti se noi adesso all'insieme di assiomi propri di partenza andiamo ad aggiungere un assioma che è Mary uno studente l'informazione che derivavamo che Mary non è uno studente non la possiamo più derivare quindi abbiamo implementato una forma di ragionamento non monotono aumento gli assiomi e certe cose che prima derivavo non le posso derivare più aumento gli assiomi e riduco le cose che potevo derivare prima la closed word assumption quindi è un'assunzione è una differenza non monotona qual è il problema della closed word assumption perché non si può utilizzare to-cur non si può utilizzare to-cur perché la sua premessa è questa qui se a atomoground non è conseguenza logica di p ma se siamo nel contesto proposizionale può andar bene ma se siamo in un contesto di logiche predicati possiamo sempre provare che un atomoground non è conseguenza logica di un programma definito p beh abbiamo visto proprio nell'unità diattica precedente un caso in cui lanciavamo un atomoground e non eravamo in grado di provare che esso era conseguenza logica perché dandolo come gol sì da qualche parte si sarebbe generata la clausola vuota c'era un percorso che portava la clausola vuota ma di fatto non riuscivamo mai a trovare perché intorno a quella clausola vuota c'erano tutti i rami infiniti e la computazione in pratica prendendo un ramo se andavamo in profondità alla ricerca della clausola vuota prendeva un ramo infinito e non riuscivamo più a tornare indietro e di fatto il procedimento durava all'infinito e quindi non si riesce a dimostrare che non è conseguenza logica di P cioè in generale nelle logiche predicati siccome la logica è semidecidibile non possiamo essere sicuri di poter dimostrare che un atomo grande non è conseguenza logica di un certo programma e allora e allora sempre nel 78 Kate Clark ha prodotto un altro concetto e adesso ci arriviamo per gradi l'idea è questa qui ok io non sempre ce la faccio a derivare a dimostrare che A non è conseguenza logica di P ma supponiamo che io ce la faccio cioè supponiamo che effettivamente io A riesco a dimostrare che cioè supponiamo che io lancio un programma di derivazione e questa derivazione termina e non mi deriva A da P non me la deriva no non è conseguenza logica non me la deriva e finisce non me la deriva beh allora io suppongo di poter derivare da P not A quindi la negazione del fallimento è un qualche cosa di meno potente della close to world assumption la close to world assumption diceva io derivo not A da P se A non è conseguenza logica da P questo invece dice io derivo not A da P se A non la derivo da P e la derivazione termina ovviamente perché altrimenti se non termina non posso derivare not A quindi andando nel nel nei programmi definiti utilizzando la SLD concretizzando questo discorso ai programmi definiti io posso innanzitutto ci andiamo per gradi definire quello che viene detto insieme di SLD fallimento finito che cos'è è l'insieme di tutti gli atomi che appartengono alla base ground che appartengono alla base di Erban di P per cui esiste un albero SLD finitamente fallito se io lancio quell'atomo come gollo cioè per tutti gli atomi che se io li lanciassi come gollo e li dessi come gollo a P otterrei che si produrrebbe un albero che ha un un ramo che termina con una cosa sola vuota quindi un albero no chiedo scusa un albero chiedo scusa per cui per cui i rami sono finiti e non esiste nessun nessun ramo che termina per successo cioè in pratica la clausola vuota chiedo scusa mi stavo sperimentando male non esiste proprio all'interno di questo albero e tutti i rami sono finiti quindi sono anche finitamente falliti cioè termino tutti con foglie che nessuno dei quali è una clausola vuota allora ripeto cerco di essere corretto l'insieme di SD fallimento finito è considerato da tutti gli atomi ground della base di erbe per cui se io li lancio ottengo un albero finito quindi non ha rami infiniti e tutti i rami terminano con la clausola vuota esiste questo esiste sta a significare il fatto che io utilizzo una qualche regola di computazione che mi produce questo albero perché come abbiamo visto un'altra volta se io cambio la regola di computazione l'albero finito può diventare infinito con rami di lunghezza infinita o viceversa questa è generica questa decisione dice basta che esista una regola di computazione tale per cui se io lancio A come gol e lo do a P ottengo l'albero che l'albero non ha rami infiniti e non ha rami che terminano con la sola vuota allora io dirò che A si fa parte dell'insieme di SLD fallimento finito per P adesso io lo chiamo SLD FFP allora che cosa dice sostanzialmente Clark dice che facciamo così se A appartiene a questo insieme ovviamente questo significa che A non è conseguenza logica di P questo non c'è un bra di dubbio perché abbiamo detto che la procedura SLD è completa e quindi se io ho un albero che non ha rami infiniti e non ha rami che terminano con la sola vuota allora io ho provato che A quell'atmogrado non è conseguenza logica di P e questo significa che se io cambio la regola di computazione magari ci saranno dei rami infiniti ma certamente non ci saranno rami che terminano con la clausola vuota a questo punto quindi dice Clark dice se A è nel rischio di essere di fallimento finito allora inferiamo notà cioè in pratica lui sta dicendo se esiste se A è un atomogrado tale per cui e se se io lo lanciassi come gol ci sarebbe una qualche regola di computazione che mi produrrebbe un albero finitamente fallito cioè che ha tutti i rami finiti nessuno dei quali termina con la cosa vuota allora io dico che notà è derivabile da P questa è meno potente della closed world assumption perché la closed world assumption presuppone che A non è conseguenza logica di P e siccome potrebbe non esistere un albero finitamente fallito A non essendo conseguenza logica di P un albero finitamente fallito potrebbe non esistere non è detto che non è conseguenza logica di P allora A fa parte dell'insieme di SLD fallimento finito di P non è detto però se è detto allora a questo punto derivo notta da P quindi la negazione di Sfailure è applicabile in meno casi questa è la negazione per fallimento il prolog non è che va a cercare un qualche albero Sfailure finitamente fallito per una qualche regola di computazione R il prolog utilizza la regola di computazione di prendere sempre l'atomo più a sinistra quindi quando la negazione Sfailure viene implementata nel prolog in realtà si fa un qualche cosa di ancora più più semplice di fatto perché come viene implementata la negazione per fallimento viene implementata in maniera molto semplice si lancia si fa questa cosa qua si prende un certo atomo lo si lancia come goal con quel programma utilizzando la SLD normale con quella regola di computazione del prolog con quella regola cioè che dice di prendere sempre la propria sinistra se lanciandolo con quella regola in pratica l'albero che si ottiene è finemente fallito e non è detto che potrebbe essere finemente fallito con quell'altra regola però si ottiene questo che l'albero è conseguenza logica di P in pratica cosa succede succede questo che io posso mettere nel corpo delle clausole nei goal quindi anche nel corpo delle clausole dei letterali con il not davanti quello che accade è semplicemente che se io li lancio cioè nel caso che c'è il not davanti quello che succede la machine del prolog fa questo lancia il goal senza il not se il goal fallisce allora il prolog suppone che not a abbia avuto successo quindi inverte il concetto di successo con quello di fallimento e viceversa se il goal fallisce il goal a fallisce not a successo se invece il goal a ha successo not a fallisce ecco cos'è la negazione del fallimento dentro il prolog che è ancora meno potente di quella di Clark ripeto perché quella di Clark prescinde dalla regola R il prolog invece utilizza la sua regola R che è una regola particolare quindi non è detto che poi la negazione del fallimento e purtroppo la negazione per fallimento quindi non è non può dirsi completa in questo contesto ovviamente perché innanzitutto implementa una regola di inferenza che è quello di cui la Sancho che non è logica e per quanto la si voglia considerare in qualche maniera utile in certi casi la negazione del fallimento potrebbe essere interessante quella di Clark quella implementata al prolog è ancora un sottinsieme di quella di Clark per cui siamo in un contesto un po' diciamo così in cui la correttezza va un pochino a essere sia la correttezza che la completezza vengono ovviamente a essere compromessi ciò nonostante per motivi di comodità di rappresentazione della conoscenza in tanti casi viene tranquillamente utilizzato il NOT per esempio questo è un programma prolog poi lo vedremo nelle prossime unità didattiche vedremo il prolog proprio in dettaglio quindi ci torneremo ma tanto per non lasciare del tutto campata per aria questo concetto che abbiamo appena visto supponiamo che vogliamo definire una relazione tale per cui due insiemi S1 e S2 di elementi possano effettivamente dirsi diversi fra di loro quando due insiemi sono diversi sono diversi se è possibile trovare un elemento X di S1 che non è membro di S2 e sono diversi anche se è possibile trovare un membro X di S2 che non è un membro di S1 questa è una definizione di predicato insiemi diversi che ha due argomenti che effettivamente sotto certe condizioni che vedremo quando faremo il prolog può essere utilizzato per provare che due list ad esempio o in generale due insiemi di oggetti poi vedremo come possono essere rappresentati sono diversi member è un programma che è un predicato che vedremo anche come implementare in prolog e quindi l'esempio l'ho riportato qui solo per far vedere innanzitutto come si può come in alcuni prolog viene implementato dal punto di vista sintattico questo not in realtà quello che vedremo noi lo implementa in maniera diversa lo suoi prolog ma insomma quello che volevo far vedere adesso qui era semplicemente un un uso assai consueto del del not all'interno del prolog e quindi ricapitolando in realtà questo qui sarebbe dovuto stare di qua perché in pratica da punto di vista logico questo qui sarebbe un letterale non negato sta da questa parte perché abbiamo imposto che queste siano clausole di orne che doveva avere un solo letterale nella testa non ce ne può avere due però stando a questa parte abbiamo dovuto mettere il not davanti però il not è implementato come abbiamo appena visto quindi non è implementato in maniera corretta dal punto di vista del prolog e quindi dobbiamo stare attenti in certi casi in ogni caso la computazione produce dei risultati che sempre alla luce del concetto di mondo chiuso dell'assunzione di mondo chiuso potrebbero essere corretti quindi ripeto e concludiamo nel not implementato dal prolog ci si fa sempre l'ipotesi di mondo chiuso anche a luce dell'ipotesi di mondo chiuso comunque il not non è completo e quindi in alcuni casi potrebbe essere vero not qualche cosa a luce del mondo chiuso ma in realtà il prolog non è riuscito a dimostrarlo perché la computazione che ha lanciato in questo caso not member x2 farebbe così lancierebbe i goal member x2 se x2 ha successo il not fallisce se x2 non ha successo il not ha successo il problema è che member x2 potrebbe cercare all'infinito non terminare mai e quindi not member potrebbe non terminare mai invece noi terminiamo terminiamo questa unità didattica e che termina anche il modulo didattico che termina anche tutta questa lunga introduzione alla teoria della programmazione logica dal prossimo modo didattico cominceremo a vedere il prolog e poi in parallelo comincieremo a vedere anche i moduli didattici che sono relativi alla ricerca nello spazio degli stati il prolog servirà per cominciare a programmare in maniera dichiarativa e invece la ricerca dello spazio dei stati servirà per continuare nella teoria dell'intelligenza artificiale e andare oltre nel programma del corso di intelligenza artificiale di intelligenza artificiale